Cari amici, un saluto da Natrusso. Oggi è il 30 settembre. Nel 1580 il corsaro Francis Drake viene creato cavaliere, cioè Sir, dalla regina Elisabetta I Tudor. 1791, in un piccolo teatro di Vienna, il Teatro of der Wiender, viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il Flauto Magico di Wolfgang Amedeus Mozart. Nei ruoli di Papageno e Pagaena si esibiscono rispettivamente lo Schickandeder, anche il librettista e la soprano Josefa Hofer. 1935, prima radiotrasmissione di Le avventure di Dick Tracy. Dick Tracy è un personaggio immaginario dei fumetti statunitensi creato da Chester Gould. 1957, a San Marino, si sviluppò un colpo di Stato del Partito Socialista Indipendente San Marinese e dall'opposizione viene insediato a Rovereta, presso il confine con l'Italia, un governo provvisorio. Il 14 ottobre il nuovo governo, legittimato tre giorni prima, lascia Rovereta per salire sul Titano e insediarsi a Palazzo Pubblico. Il colpo di Stato di San Marino era completato. 1982, arriva in Europa il Financial Future. Si tratta di un contratto Future basato su un tasso di interesse a breve termine. 1991, Kine Endate, astronomo giapponese, scopre l'asteroide 60-20, Mijamoto della fascia principale. Nel 2002 si svolge il primo trapianto di fegato in Italia su un paziente di 49 anni, siero positivo. Si tratta del primo trapianto di fegato in cui si ha un successo a lungo termine. Il primo era stato compiuto nel 1963, ma il successo fu a breve termine. Per oggi è tutto, un saluto da Nat Russo, a presto.